Buongiorno amici, bentornati sul canale. Dopo diversi mesi torno a parlare di università e di come leggere, come interpretare l'università, cosa serve e come sfruttarla a vostro vantaggio. Non ci sarà tanta filosofia, sapete che di filosofia cerco di farne poca. Voglio spiegare a chi si sta laureando, a chi pensa di laurearsi, che sia ventenne o otto-quarantenne, come sfruttare l'università e come non perderla, come non buttarla via. Adesso mi capirete, adesso ci arriviamo, non è difficile. Non è difficile ma non è neanche scontato. L'università, voi dovete vederla solo così, un percorso di studi, di 3-4 anni, quello che è, che alla fine della fiera vi dà un foglio di carta. E questo foglio di carta dice, io Jacopo sono certificato, qualificato, ho delle basi, delle fondamenta di una determinata materia, può essere informatica, economia, geografia, quello che volete, geologia. Ora io Jacopo mi sono appena laureato e sono un buon candidato per un'azienda che sta cercando una persona junior, una persona senza esperienza da assumere e da introdurre, e quindi in un determinato contesto. Quindi io Jacopo ho un biglietto da visita. Immaginatevi un biglietto, che ne so, che vi dà un pass, un pass che dura circa un anno, un anno e mezzo, due, ma poi dopo un certo periodo di tempo questo pass si sgretola, scade, non vale più nulla. Quindi io ho un anno, un anno e mezzo, due, mi viene da dire, in cui posso giocarmi la carta del, mi sono laureato in, per favore assumetemi come persona che vuole imparare questo settore. Questo è l'università. L'università è un trampolino di lancio. È un trampolino in cui voi studiate tre anni e poi, ciuc, vi proiettate in una determinata industria, che come ho detto può essere la programmazione, l'informatica, la medicina, l'avvocatura, la chimica, quello che volete. E vi dà, questo trampolino vi permette di interfacciarvi con le aziende che stanno cercando persone da assumere, da formare, come ho già detto, e che quindi avendo le basi sono dei buoni candidati da assumere. Questo è l'università. Basta. È una carta che dovete usare per farvi assumere in un determinato settore specialistico che possibilmente matchi le vostre aspettative lavorative. Né più né meno. Perché vi ho dato questa spiegazione che può sembrare banale? Ah, lo sapevo anch'io che in effetti ti permette di, ovviamente poi ti permette di creare l'ascensore sociale, cioè io, figlio di operai, studio ingegneria elettronica e divento un ingegnere elettronico grazie al mio foglio di carta. Perché ve l'ho spiegato? Perché molti non capiscono che se voi vi laureate e poi andate a fare i camerieri, andate a fare i bagnini, andate a fare i parcheggiatori abusivi al bagno Mariuccia, vi fate passare troppo tempo e poi vi perdete in lavoretti, lavorucci, che non c'entrano una mazza, dopo che sono passati quei fatici 12-18 mesi, 24, essendo generosi, poi a quel punto la vostra carta, come dire, la vostra carta di ingresso nel mondo del lavoro praticamente evapora, non vale più nulla. Perché un'azienda, quando vede Jacopo che ha fatto il bagnino sei mesi, ha fatto il cameriere nove mesi, poi ha fatto il reception in albergo un anno, e Jacopo è l'ultima volta che ha fatto un esame di economia, era il 2017, Jacopo non lo assumo, perché, cioè, ha studiato per poi fare lavori che non c'entrano nulla per troppo tempo, quindi è scaduto, è come lo yogurt, è scaduto, o è anche come quelli che si sono fatti, vabbè, quello non importa. Quindi la sua appetibilità sul mercato del lavoro, il suo valore, che lo differenziava da un diplomato che non sa nulla, lui che era laureato ed era competente, era fresco, era pronto da prendere, era pronto di entrare in azienda e scalare, che poi non si scala un cazzo, però vi fanno credere che così scalare i vertici aziendali, era pronto andare a fare fotocopie, ma comunque poi intraprendere un percorso possibilmente di crescita in aziendale, non vale più nulla, perché ha passato tempo a fare lavori che non c'entrano niente, si è dimostrato poco determinato, poco incisivo, una persona che non aveva le idee chiare, ci ha studiato delle cose per poi fare il cameriere, faccio l'esempio del cameriere, poteva anche andare a fare il venditore porta a porta, andare a fare il fiorista, non importa cosa è andato a fare, quindi voi dovete capire una sola cosa nella vita, cari amici, questa è una lezione di vita importante, l'università è un foglio di carta che vale un anno, un anno e mezzo o due, in quel periodo potete giocarvi la carta a dire per favore assumimi, dammi una chance di entrare in un mercato in cui non sarei mai potuto entrare, diversamente non è nient'altro, tanto l'università non imparate quasi nulla, specialmente in Italia non imparate niente, perdete il tempo, però comunque vi danno quel foglio di carta, in Inghilterra, all'estero, magari imparate qualcosa di più pratico, ma comunque poco, cosa potete imparare? È limitata la vostra, però, quindi è un percorso che vi dà il trampolino per ciuc saltare, prendere questo famoso ascensore sociale ed entrare in settori che poi si spera paghino bene, offrano crescita, offrano soddisfazioni personali, professionali, tutto qua, l'università non è nient'altro che quello, è un trampolino per entrare nel mondo del lavoro, se però andate a fare i furbetti, non i furbetti, perché non è da furbi, è da, vorrei dire, tonti, fessacchiotti, fessacchiotti, se fate i fessacchiotti del... questo è un classico, l'ho visto in Inghilterra tantissimo, ormai non succede più perché c'è la Brexit, ma prima della Brexit quello che succedeva era che la gente arrivava dall'Italia, neolaureati o anche dalla Spagna, li ho visti, li conosco, li conoscevo, poi non li ho più frequentati, persone laureate che venivano in Inghilterra, facevano i camerieri, guadagnavano bene, 1500, poi 2000, 2005, 3000 sterline anche magari, vivevano con questi stipendi, si sentivano indipendenti e non cercavano il lavoro per cui avevano studiato, erano contenti di fare il cameriere, il receptionist, quello che è, la soluzione che avevano trovato temporanea di, io li chiamo lavoretti, lavori non qualificati. Così gli anni passavano, le mamme imbiancavano e la carta di laurea, il loro potenziale valore sul mercato del lavoro, evaporava, scompariva, scadeva, come lo yogurt e come i cosi. Quindi questa gente poi si è ritrovata dopo 3, 4, 5 anni di vivere in case condivise, comunque sì, andavano ai concerti, viaggiavano, se la godevano anche abbastanza, però poi non hanno costruito nulla a livello professionale, si trovavano a 30, 35, 40 anni con nulla in mano, con il nulla cosmico, lavori di ospitality, customer service, panconista, addetto commesso, receptionist, albergo. Sì, si sono mantenuti, meglio che stare in merdaglia a casa dalla mamma che ti fa le lasagne, però hanno fallito, perché non hanno avuto la visione di lungo termine che sì, io posso fare i lavoretti, i cosiddetti lavoretti per qualche anno, ma poi cosa faccio? E quindi cosa farà sta gente che a 35, 40 anni ancora fa, serve i caffè o fa lo shift manager al diner, American diner e prende 30, 35 mila steline? Sì, li prende anche, ma lavora tantissimo e non ha nessuno sbocco di carriera. Oltretutto non è gente che ha studiato all'istituto professionale per cuochi, chef, perché poi ci sono anche persone molto competenti nell'ambito della ristorazione, non è che c'è da dire che non bisogna fargli quei lavori, però gente che ha fatto economia e poi va a fare il cameriere e poi diventa supervisor, shift manager, mi sembrano un pochino sprecati, un pochino stupidelli, però ovviamente ognuno ha la sua vita a fare le sue scelte e ne raccoglie i risultati, quindi valutate voi. Ovviamente questa gente non lo sapeva, subconsciamente ha fatto percorsi che li ha portati al nulla cosmico a livello professionale, perché poi il nulla cosmico vuol dire che hanno lavori, hanno stipendi che non gli permettono di comprare casa, affittare qualcosa di carino, di avere una... cioè a un certo punto uno vuole anche mai rifare famiglia, avere delle certezze, anche se ci vogliono far credere che non avrai nulla e sarai felice, però capite che con questi lavori temporanei, lavori come dire basici, non è che puoi ispirare a chissà che futuro, a costruire chissà cosa, avere chissà quali certezze nella vita. Questa gente senza saperlo è andata in un binario morto, sapendo che invece aveva un binario attivo che era quello degli studi di laurea che aveva e non li hanno mai perseguiti. All'inizio non li perseguivano perché non avevano l'inglese, non erano sicuri di sé e quindi sono andati nella ristorazione e poi sono morti lì. Quindi quello che voglio fare con questo video è dirvi, siete liberi di fare qualsiasi lavoro che non avete studiato? E va bene, non accende di male, però dovete sapere che fra qualche anno poi ne pagherete il prezzo e dovrete decidere come smazzarvela, perché la vostra laurea non varrà più nulla. Una volta che sono passati due o tre anni non vale niente e quindi cosa fate? Vi iscrivete di nuovo all'università a 40 anni, fate due anni, tre anni con i ragazzini e poi mandate curriculum a 44 anni dicendo mi assumete per junior coso. Sì, in Inghilterra si può fare, vi prenderebbero probabilmente, con fatica ma vi prendono. In Italia non siete spacciati, lo sapete, però in Italia è un mondo a parte, l'Italia vive nel suo ecosistema con la zia Concetta che fa la lasagna, la nonna che vi passa la paghetta, lo zio vi presta la macchina, vivete nella casa della cugina morta, quindi comunque in Italia in qualche modo vi sta bene, ma nel mondo che non è l'Italia le cose vanno pianificate, uno deve pensare al futuro, deve dire ok, mi sono laureato, cosa faccio? Mi prendo un anno sabbatico, ci sta, viaggio il mondo, cazzeggio, proprio dopo quell'anno devo mettermi sotto e cercare un lavoro qualificato, se no poi faccio la fine di decidete voi. Spero questo video sia stato utile, fatemi sapere cosa ne pensate e se è meglio fare i camerieri piuttosto che avere un lavoro tra virgolette qualificato. Ciao!